Benvenuti, vediamo ora abbiamo visto come la struttura di rete si presenta e abbiamo visto che si possono fare diverse configurazioni nel senso che io posso avere un client che si collega via internet a un server esterno oppure posso avere un client che si collega sempre a noi stessi quindi attraverso la nostra rete interna quindi usando i nostri numerelli oppure possiamo fare un server che si collega in realtà su se stesso, sulla nostra macchina in questo caso abbiamo visto che gli indirizzi da usare sono alternativamente o 127.0.0.1 sono quattro numere oppure localhost oppure l'indirizzo effettivo che abbiamo che abbiamo visto prima, nel mio caso è 192.168.1.96 quindi 192.168.1.96 ok, quindi proviamo a fare una connessione in locale allora come facciamo a fare un server locale? è una cosa molto rapida, molto veloce basta entrare semplicemente sul local game e poi qui diciamo host server ok, dopodiché qui mettiamo qual è il nome e la password dell'amministratore di questo server quindi mi metto una password per entrare e vedete che leggo l'indirizzo a questo indirizzo 127.0.0.1 e sulla porta 30.000 questo vuol dire che chi mi chiamerà dovrà usare forzatamente questo indirizzo quindi 127.0.0.1 porta 30.000 allora cosa facciamo? quindi entriamo su un mondo qualunque che diventa questo punto se facciamo host game io entro sono l'amministratore di questo server che vedete che è nuovo lavoro, faccio tutto quello che voglio vede che essendo amministratore vabbè forse lo avevo già prima ok e quindi a questo punto ho il server in funzione poi faccio vedere se funziona escape butto giù e in questo caso io ho abilitato anche la console vedete che ho avuto fuori tutto questo discorso ma posso lanciare un'altra quindi faccio tasto destro sul mio main test engine tasto destro anzi niente faccio vabbè open tasto destro poi open e lancio una seconda impostazione ora la seconda impostazione devo giocare online prima ho fatto local game e qui facciamo play online e qui però devo mettere l'indirizzo mio l'indirizzo mio lo metto qua quindi mettiamo 127.0.0.1 e mi devo presentare con un nome di fantasia ad esempio video e password in questo caso ancora video mi connetto vedete che mi fa collegare mi sono collegato e dovrei vedere nei pressi ah no ah si vedete il client sta vedendo in alto vedete che qui c'è scritto chi è collegato c'è anche Sara zero collegato quindi qua vicino c'è Sara e infatti là vedete che io sono se io premo F8 non cos'è F7 vedete che mi vedo e io sono video posso muovere posso volare non so se io faccio K ah dice non c'è il privilegio quindi dovrei fare grant me all e mi dice che i privilegi sono insufficienti quindi l'amministratore del sito dovrebbe darmi gli privilegi quindi cosa faccio faccio alt tab vado qui dove ero Salazar vedete che vicino a me vedo che c'è video e poi qui faccio grant a chi ha video all ok quindi gli ho dato tutti i privilegi questo è solo un esempio solo per fare in fretta in realtà non si faccia così torno quindi a mio nome video faccio alt tab faccio di nuovo provo provo a volare volare vuol dire K ok enabled e vedete che adesso posso volare quindi questo è il primissimo esempio ora questo tipo di cose funziona anche quando sono su un altro computer ecco dunque per avere un altro computer occorre o avere un computer fisico oppure io ho fatto una simulazione nel senso che sempre nel mio computer ho creato tramite le macchine virtuali un un altro computer che abbia che sia nella stessa rete quindi per essere nella stessa rete di questo deve avere uguali i primi tre numeri e per fare ciò ho aperto fondamentalmente un windows 7 vedete e nel windows 7 qui ho messo quindi se voi vedete l'ho configurato in vmware in data bridged se faccio ipconfig che è il mio modo privilegiato 192 178 1.98 e se vi ricordate prima eravamo 1.96 quindi in teoria io da qui potrei chiamare anche l'altro ora notate che qui ho installato anche un bind test e quindi in teoria io potrei collegarmi qui play online e poi mettere nell'indirizzo mettere 192 168 ah qui il carattere abbiamo visto che sono un po' piccoli quindi andiamo sulle impostazioni avanzate e mettiamo interfaccia mi ricordo più gui scala gui ok ce l'ho beccato scala gui anziché 1.0 gli mettiamo 1.3 ok anche più più magari 1.5 ok così vediamo chiaramente vedete anche voi le cose che i font sono un pochino più elementari play online a questo punto dovrei poter ecco vedete che qui non posso mettere 127.0.0.1 perché se vi ricordate 127.0.0.1 di lo stesso computer su cui sto girando che in questo caso non può essere quindi qui mettiamo studente con password con password studente e qui connected mi dice mi dice che non ce la farà infatti ci piega un attimo dalla risposta ma non c'è nessuno non c'è nessun server localmente che sta facendo questo mestiere noi dovremmo mettere l'indirizzo del nostro 192 168 1 96 se non erro 30.000 studente studente facciamo connected e in realtà anche se l'indirizzo fosse giusto qui non mi lascia entrare per un motivo che adesso vi spiego a parte che potrei anche aver sbagliato l'indirizzo bene dicevamo nella macchina principale che abbiamo visto che era la 96 1.96 prima qui avevamo messo 127.0.0.1 abbiamo visto che non era raggiungibile ora il modo per farla raggiungere anche da altre macchine è quello di specificare qui 0.0.0 questo è l'equivalente per dire fammi raggiungere da chiunque quindi è un po' strano se volete perché avrei messo il mio indirizzo ma così è almeno per chi non comprende tutta la logica delle reti dove 0 è un po' un asterisco allora salazar con la password entro dentro faccio host game e io entro come salazar che è il diciamo l'amministratore di questo di questo server e andiamo a vedere se riusciamo a entrare anche come trovo più è uscito quindi facciamo che lanciare un'altra istanza quindi mi ha fatto uscire quindi qua entro di nuovo e questa volta entro non su uno sì entro sì il mio indirizzo questo qui video video e vediamo se mi fa entrare vedete che questa volta ho specificato 196 poteva anche qui specificare localhost 127.0.0.1 perché sono virtualmente identici in collegamento però abituiamoci a mettere così quindi qui siamo sempre nella stessa macchina su cui ho caricato il server e provo a connettermi da lì video perfetto fatto vedete che sono collegato e sono sempre in modalità quella di prima ora andiamo però su una macchina diversa della mia quindi cosa facciamo andiamo qui l'ho simulata ok supponiamo che mi sia mosso e sia andato fondamentalmente su questa macchina virtuale ed è questa macchina virtuale e windows 7 e se vado dentro dp.config mi dice che sono 1.98 e mi collego all'1.96 ed entro come studente studente connettiti quindi a questo punto entra quindi in questo momento sono collegato con 3 avatar vedete che c'è il salazar video e sono anch'io che posso muovervi questo qui è un pochino più lento perché sono su una macchina virtuale ma il concetto è che sono entrato questo era solo per farvi vedere il meccanismo con cui si entra se io poi esco dalla macchina virtuale e torno sulla mia macchina principale vedete che qui sono vedete che studente joined e quindi in questa zona dove sono io che sono video vedo che c'è anche studente ed ecco studente che è lì bene quindi questo è diciamo la prima base del server diciamo locale su per esempio la potete fare a scuola o a casa vostra se volete far giocare qualcun altro nella vostra rete domestica o nella rete di scuola notate che un server di questo tipo non va bene se deve essere acceduto da internet perché non esiste cioè questi indirizzi che abbiamo usato 192 abbiamo visto nella lezione scorsa che non sono accessibili da fuori quindi sono indirizzi interni locali domestici privati se vogliamo ottenere quell'effetto dobbiamo fare delle cose molto complesse oppure affittare un server che è uno degli argomenti che vi farò vedere sempre in questa serie di video inoltre un'altra cosa che manca moltissimo è proprio la configurazione del server in quanto tale cioè un server che parte e non ha bisogno di avere un avatar dentro quindi che può funzionare diciamo anche in attesa che qualcuno si colleghi quindi per il momento è tutto ci vediamo al prossimo video in cui spiegheremo invece come lanciare il server in maniera unattended e con qualche accorgimento in più in maniera in maniera